Matteo e il bastone magico primo episodio autore giuseppe di grande musiche don gerardo balbi consulenza linguistica alida giacomini voce narrante clara molaschi capitolo 2 il bastone magico iniziò a tirare la mano di Matteo il bambino assecondò i suoi movimenti e cammina cammina si ritrovò a percorrere la via che solitamente faceva insieme alla nonna per andare dal fornaio a comprare il pane Matteo non vedeva i negozi e le case ma sentiva gli odori e i rumori dei luoghi che oltrepassava c'era il rumore dei bicchieri del bar l'odore della pasticceria il lezzo dei contenitori dei rifiuti il rumore delle automobili Matteo facendo molta attenzione seguiva la strada che il bastone gli indicava dopo un po' tradondoli e colpetti si era talmente abituato che riconosceva in anticipo per quale luogo sarebbe passato a un certo punto arrivò proprio vicino alla sua scuola ma il bastone invece di orientarlo verso il portone di entrata gli indicò di percorrere un vicolo laterale che non portava da nessuna parte Matteo si fermò di fronte a un muro tapezzato di manifesti pubblicitari e si chiese e ora che faccio? il bastone per tutta risposta picchiettò sul muro di fronte ma da qui non si può passare gli disse Matteo il bastone picchiettò ancora stavolta per tre volte lentamente nel muro si delinearono i contorni di una porta che silenziosamente scivolò in un lato di fronte a Matteo si formò un passaggio con dei gradini che scendevano giù nel buio Matteo avvertì un alito d'aria fredda che sapeva di chiuso e polvere quando il bastone fece per picchiettare di fronte il bambino si rese conto dell'apertura perché il legno non colpì più il muro poi gli tirò leggermente la mano in avanti Matteo capì e fece qualche passo però fu repentinamente fermato da una scossettina del bastone che si abbassò battendo sul primo gradino Matteo capì che il bastone magico era diventato un amico che gli segnalava gli ostacoli e la strada da percorrere infatti gli aveva perfettamente indicato la presenza dei gradini un'insidia in cui se fosse andato avanti avrebbe rischiato di farsi male dopo aver seso qualche gradino Matteo sentì l'apertura alle sue spalle chiudersi l'aria dove si trovava era stantia a volte si udiva qualche gocciolio in lontananza allargò le braccia per vedere se toccasse le pareti laterali ma non toccò nulla nemmeno allungando il bastone ai lati trovò ostacoli si trovava su una lunga gradinata che scendeva verso un luogo misterioso se non avessi avuto il fido bastone che gli indicava di andare avanti sarebbe tornato subito indietro e avrebbe chiesto aiuto dopo aver seso tanti gradini arrivò in fondo il pavimento era leggermente bagnato perché ad ogni passo le suole delle scarpe da ginnastica sciaguattavano un poco imboccò un corridoio con le pareti umidicce ogni tanto si fermava per ascoltare se udisse qualcosa ma non percependo nulla continuava ad andare avanti ad un tratto il bastone inforcò qualcosa incastrandosi tra due ostacoli subito dopo un urlo lo atterrì ah! il bastone si era infilato tra le gambe di una creatura Matteo spaventato da quell'incontro inaspettato urlò anche lui così Matteo e quello strano personaggio si trovarono faccia a faccia impauriti l'uno a urlare all'altro dopo qualche secondo si calmarono e insieme chiesero chi sei? poi stettero ad aspettare ansimando spaventati prima tu disse Matteo no prima tu disse l'altro no no prima tu disse Matteo mentre il cuore gli batteva forte e le gambe gli tremavano l'altro si schiarì la voce con un colpo di tosse poi con voce tremula e bassa disse io sono Amedeo la talpa tu chi sei? Matteo si fece coraggio e con la vocina impaurita rispose io sono Matteo il bambino cosa fai tutto solo qua giù gli chiese Amedeo la talpa non sono solo sono alla ricerca della medicina per far guarire mia nonna rispose Matteo io non vedo nessun altro puntualizzò Amedeo sono con il mio bastone ribatte Matteo ah 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 risi Amedeo ma quello è solo un bastone ti sbagli questo è il mio bastone magico che mi dice dove andare disse Matteo poi non volendo più dare spiegazioni aggiunse tu invece cosa fai qui tutto solo qui vicino c'è casa mia e facevo due passi per leggere la lettera della mia fidanzata rispose Amedeo non potevi leggerla a casa gli chiese Matteo non potevo a casa c'è poca illuminazione ho perso gli occhiali farfugliò e poi non so leggere ammise con un certo imbarazzo dopo qualche attimo Matteo non sapendo come poterlo aiutare gli dissi mi faresti passare per favore che devo continuare a cercare la medicina per mia nonna l'altro con tono scorbutico gli dispose no di qua non passi trovo un altro condotto dove passare qui ci sono io allora Matteo un po' sorpreso e un po' arrabbiato disse ma perché sei così prepotente cosa ti ho fatto ho solo bisogno di passare io prepotente disse Amedeo poi aggiunse pensoso sono veramente prepotente Matteo non rispose anche perché Amedeo quelle domande le aveva rivolte a se stesso tra i due calò un certo imbarazzo Amedeo la talpa goffo e rosso in viso si spostava da un piede all'altro come se volesse dirgli qualcosa poi alla fine si decise e gli chiese Matteo sai leggere? ehm sì beh farfugliò a sua volta repentinamente l'altro gli passò a un foglio che sorpresa delle sorprese era scritto in braille allora Matteo con sicurezza confermò sì sì so leggere Amedeo con un sorriso gli chiese per favore potresti leggermi questa lettera? Matteo altruista e sensibile come sono i bambini non se lo fece ripetere due volte i due diventati istantaneamente amici si sedettero su un gradino lì vicino e per un buon quarto d'ora tra i borbotti e le esclamazioni di Amedeo la talpa Matteo gli lesse orgoglioso la lettera che conteneva la lista della spesa e qualche altra commissione da fare di Amedeo di Amedeo di Amedeo